Altrotto facciamo un cambiamento trasversale. Forza Anna, abbattiamo la sella, mi sollevo e mi siedo, abbassa un po' le mani. Lorenzo distanziati un po', entriamo bene negli angoli. Avanza Sofì. Tieni giù i talloni, Sara non stare in trazione con la caviglia. Vai Annetta, forza le gambe. Avanza Sofì. Sollevata Anna, avanza Sofìa. 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 Sofìa.